Mentalità vincente, voglia di riscatto e dimostrazione di essere i più forti. Gli ingredienti ci sono tutti, il Catania si presenta all'inedita sfida contro la Provercelli con la consapevolezza di dover fornire, già alla seconda giornata, delle risposte, almeno su due fronti. Rifettori puntati dopo il pareggio interno contro il Lanciano sulla tenuta difensiva, retroguardia sotto esame, ma non solo. Altro punto fondamentale sarà l'approccio alla gara lontano dal Massimino. Il rendimento in trasferta sarà un fattore determinante in questa stagione, anche per questo la mentalità rispetto agli anni in Serie A dovrà obbligatoriamente cambiare. Lo sa Maurizio Pellegrino e il suo Catania è profondamente rinnovato anche nell'animo. Sul sintetico del Silvio Piola di Vercelli però il tecnico rosso-azzurro dovrà fronteggiare assenze importanti tra infortuni, squalifiche e giocatori impegnati con le nazionali. In difesa comunque saranno Peruzzi, Sauro, Spogli e Monzon a proteggere la porta di Alberto Frison che torna tra i pali dopo una lunga assenza. Sarà 4-2-3-1 con Rinaldo e Caleio davanti alla difesa, Rosina, Castro e Martigno a supporto di Leto. Senza dimenticare però le alternative, i giovani Barisic e Aveni. A proposito di giovani, durante l'allenamento a Maurizio Pellegrino è stata data la notizia della vittoria della primavera di Giovanni Pulvirenti nella prima di campionato. 2-1 a Terni, in rete di Grazie e il nuovo acquisto Bortolussi.